Musica 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 Credendolo, lo volvo e introdere. Non ci sono. Non, non, non. Non, non. Non non, non, non. Non, non. Non, non. Non non, non. ma donna mi ta flatte luna si abu madame nualunca nini mavo metriani trovo mi torna naka obede bossy e nene a chato benami tetier auto a tia di demania mania nio courier ne posso suma non aviso reto attimeremo e nemo po e si a medina la finalmente non mi abbia più da oggi o che la figlia vaticolo 2 avven nell Bolsonaro Chiaji, me dò kuhiede, bena favide tanya. Ode, uto uwa, kuhèo, bakla kbe me pòfu uwa me waw, wene bine le ombè, abe guwene, ammoli do donklo so kwa ohane do. Ta, akpa djengo sine nyema, uto uwa, noda popu kopia metoka tantohanbo wa joga. Noa chua no bina chua kpodo kiu bwanya kpontohan. Uto uwa, melito troge kbe runa kpoto nuabali sine lea. Quid kyo theiune the from! So wduwa. Uto uwa! Ia se ti doubles bajaybenan. Lé, do ligne leun kudem yanu nye, yena debboubone nyanu, jire di. Exa one le t konst po pone nonombe ya take me si ya des Saw Yinquwa yang ni yo, May insists ay me berhan tö Behaan, ya firma me niyo. Yadu dudou leje jjel per platform tu ka ke kata nou. elect adkSíba Kickstarter nye. Tafire la tje. iya kwono Run pooru si le jjel perlowano wa folosia zhese denu Non, 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 non. Non, ma mia figlia è finito! C'est là che spunto la sua? Mãe mi il piangono o messo! Ma mia, saràétéacio a lavorare! Cosa che non si la siostante? Non, non c'est solo un attraverso a lavoratore! Non, n'a pięcio raggiungo lì. Non, oggi non? Se è una cosa che mi mi lamenta, mi sembrava che la scuola una piena di recommends. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Niente, non mi ha dato. Non mi ha dato. Mi ha dato che ti ha dato il tuo padre. Ti ha dato. Non mi ha dato. Non mi ha dato. Non mi ha dato. Hi! 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 Sei! Tu sei tu, Nami? Tu sei tu, tu sei tu sei tu... Stai con te la pestlice! Ho però tu, Nami... Tu sei tu, Nami... Tu sei tu sei tu! Non, non. Non, 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 non. Non, non, non... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , 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 ,,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, se adesso è finita alcuni ragazzi non si si c'è la loro a non su se se questo non 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 Non, ma io non voglio fare, mi troppo bene il video ogni anno? Cos'è la prima cosa che parlate, non sarò lì a tepare con uno… …io qua… …ahora, non esi… …che cosa che cosa che metti a parlare, non esi? … il risultato d'accordo che ne sia da più… …che cosa che ci cos'è ora iniziato? Tu cosa che cosa, la prima cosa è che rimasero io… a tutti gli ucciano sono tornati da un gange per lui. Con l'arrivo a riuscire a creare il nostro bloco in maniera dentro, si è il nostro tosse, posso dare un muro che scava ai discene. Mi è venuto? Mi è venuto da un po' diierso, si sono così che il dico ciò nonno? Mi è venuto? Mi è venuto? Amfora a troppo l'arrivo? Mi è venuto? E l'ました che devo dire, mi è venuto i due tini, ma tornata è venuto. Mi è venuto? No ti ho fatto! Non ti ho fatto! Come ti ho fatto! Upto! Non ti ho fatto? Non ti ho fatto che il nostro foito! No ti ho fatto la sua fatta! ecco la stella sonora la figlia la il Volevo fare l'arcastro. Uto, ha questo tipo di lavoro che non mi faiuto. Come si mi fanno? Dere di me fanno, mi fanno. Come andiamo a me fanno qui, se non mi fanno fare le conto che lì. Sì, ho? Voi? Allò? Non si vede! Non ti faccio? 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 No! Ah! Voi, perché non ci faccio? Non ti faccio? e ne le imame e ne dejikfunam alewe bento nesosumate e nefo le wabama si jine kemuro vabama kukwarene baya vakiya koko wa klima matonu sita e gbodoa si hohocho utuasiao taflateno nyefia vi ndekasi kuesro nyehia fifia enya intifafa manye kuheu masusi wene chomu vya legwe kwe ha 미ie kelaba nebe peале ka omega le fedakmo le jucier mowa para kokwareamwe k server sa ghilrokana nyehia vint60 wako2jithaa m akfiwil k alumidea teラiaa ikaitu Rechts moderate comment fit candidates ... ... ... ... ... Vieni, sono tutti padrissimi e spettiamo. Ma volta che non mi chiede l'Imana, io le ci sono che voi dati! Mi sono stesse chiesiti i soldi, nella mia mia famiglia è nonte ovole cosa spettiamo. Perti che se vuoi si la scuola mi ha colo che vedi non mi ha già indo! Non mi senti un po' di me. Ma cosa si chiede la miaestra? Toi! Grazie a tutti.